Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono in gruppo di Triestino Juventus che è finita con la 0-4 della Juventus quindi ragazzi, in primo tempo ragazzi va segnalato un totesimo Paolo Di Bala con un bellissimo tiro al cucchiaio un cucchiato che il portiere della Triestino non riesce a pararlo e quindi ragazzi, Paolo Di Bala con quel figuro lancia il segnale a Maurizio Sarri e ragazzi, tra cui nel secondo tempo la Juve ha provato poi a trovare l'incontro del montaggio, non c'è riuscita ma poi nel primo tempo ragazzi, ho concesso un calcio di rigore per cui è caduto Federico Bernadeschi, per esempio è fatto da Paolo Di Bala e qui il portiere di Triestino è da Bala e quindi ragazzi la Juve si mangia un bel 2-0 quindi ragazzi, per adesso la Juve che con due si amiche ha una vittoria e quindi ragazzi la Juve di Bala porta la Juve russa la vittoria tra cui ci sono stati un po' di assenze in campo tra Juve, tra cui è stato legato in panchina e lì che adesso fa assaggiato Leo Bonucci poi Ronaldo, non c'è stato Ronaldo perché si è infortunato quindi in questi giorni salire da parte e un po' si satterà anche la prima del campionato e quindi ragazzi, per Juve che finisce molto bene tra cui grazie alla rete di Di Bala si porta questa vittoria tra cui Triestino si è giocato una bella partita è molto bella e tra cui Sarri non è stato presente per via di uno non è stato molto bene e quindi ragazzi ha sposto di Sarri e giù ha avuto il vice allenatore della Juve Ectus che non so, ha gestito molto bene concedendo così alla Juve una grande vittoria e quindi ragazzi, grazie a Di Bala la Juve si porta anche questa vittoria e quindi la Triestino ha giocato molto bene ha saputo affrontare una prestazione molto degna come la Juve infatti questa partita che ha giocato non è stato nel Trieste della Triestina e quindi ragazzi quindi è stata una partita molto bella per cui l'evento si è avuto molte occasioni che poi non so per spiegare ma lo stesso ragazzi la Juve si è fatta una grande vittoria e quindi ragazzi da loro è tutto noi ci vediamo con il campionato un po' con il campionato per 6 motivi quindi grazie a tutti se non c'è il like quindi è tutto ciao ciao